25.727 volte grazie e tanti sono stati cittadini abruzzesi che hanno aderito alla campagna del Banco Alimentare in collaborazione con Iper intitolata Aggiungi 14 posti a tavola, basta un euro. I 25.727 euro raccolti nel punto vendita della grande distribuzione a Colonnella e donati al Banco Alimentare questa mattina attraverso la consegna di un assegno, si trasformeranno in oltre 360.000 pasti che saranno distribuiti alle 47.000 persone indigenti assistite tramite i 241 enti convenzionati con il Banco Alimentare abruzzese Aggiungi 14 posti a tavola, dono un euro e il calcolo che noi con un euro riusciamo a produrre, tra virgolette perché è quello che riusciamo a raccogliere 14 pasti che l'equivalente di 7 kg Noi ringraziamo la grande I che ci ha dato questa opportunità, ringraziamo i clienti della grande I che hanno aderito 25.727 volte e soprattutto ringrazio i miei collaboratori e i nostri volontari che poi ci permetteranno di distribuire in tutta la regione i pasti che abbiamo raccolti i prodotti alimentari che ci permetteranno con questa cifra qua di continuare a raccogliere e a distribuire Tra pochi giorni ricorre il ventennale della fondazione del Banco Alimentare siamo all'interno di questo capannone a Pescara, vogliamo raccontare che cosa fa il Banco Alimentare? Il Banco Alimentare nasce 20 anni fa con la prima giornata nazionale della colletta alimentare in realtà lavora tutto l'anno, 365 giorni l'anno ed è aperto tutti i giorni Noi raccogliamo prodotti alimentari dalla grande distribuzione organizzata, dall'azienda dell'agroalimentare e li distribuiamo a circa 191 strutture in Abruzzo che si occupano della povertà vanno dalle mense per i poveri alle case d'accoglienza, alle caritas parrocchiali e ad associazioni che fanno pacchi alle famiglie questo grazie soprattutto ai volontari, abbiamo circa una quindicina volontari che costantemente ci danno una mano e che ci permettono di poter rispondere a questi bisogni Ringraziamo l'Abruzzo, il popolo abruzzese perché questo anniversario dei nostri 20 anni che tra l'altro cade il 9 settembre ci ha permesso di incontrare altre persone di incontrare altri sostenitori e tra virgolette anche di festeggiare insieme per questa grande opera che oramai è presente da 20 anni nella regione Abruzzo Grazie